La Bea l'altro giorno mi ha fatto questo taglio Lei voleva lasciarmi un pochino più lunghi sopra Io però vabbè ho detto dai tagliamo lì giù corti Quindi questa volta è andata così Sono gasato ragazzi perché stiamo andando a ritirare una cosa Che aspettavo e ci ho lavorato per penso sei mesi Che è tra coronavirus, passaggi d'azienda e di qua di là È passato un sacco di tempo Spero che sia venuta esattamente come volevo Adesso stiamo andando a ritirarlo Vado in missione ragazzi Eccolo Vedere vedo si può vedere Vabbè ragazzi penso che ormai abbiate capito che sto montando una bici nuova Cioè è un cane di mountain bike Però per lasciarvi un attimo di suspense Mettiamo bianco e nero Guardate chi è arrivato Hello guys Lì da vedete c'è una ruota e lì c'è la bici montata finita dopo Dall'ultima click che avete visto sono passata tipo una settimana praticamente perché Niente siamo andati in un altro posto Tra l'altro quel posto lo vedrete giovedì Questo giovedì, giovedì prossimo Su Red Bull e poi magari lo vedrete ancora in un altro video che uscirà poi prossimamente Se mi avete seguito su Instagram Seguitemi anche su Instagram perché Lì vedete tutti gli spoiler vari Anche sul canale viola di Alboreto Ah ok quello viola Lì fuori ragazzi lì fuori c'è la bici montata Devo un attimo cioè se vi faccio subito vedere la bici Il video poi voi cliccate E' prossimo E' finito Salve Dovete stare anche connessi perché questo video è una duplice Vi tengo proprio in ansia fino al massimo Abbiamo bici nuova Seconda cosa annuncio finalmente come si partecipa nel giveaway Dei 50.000 iscritti perché abbiamo raggiunto 50.000 iscritti ragazzi Una cosa alla volta ragazzi Prima di tutto merenda Allora ragazzi oggi facciamo merenda Con i macro munch di Bulk Powder Oh my god Aspetta facciamo Oh my god Incredibile Vab Il toto Quando stavano facendo l'ordine di Bulk Powder Ho detto no ma io le barattistone non le mangio Mi piace di più ancora dell'altra Cucchi secchi Biscotti friabili e crema Adesso che ho iniziato ad andare da un nutrizionista Tra l'altro vi porterò prima o poi Anche da questo nutrizionista E anche da questa persona Che si è offerta da farmi da osteopata E grazie a lui ho trovato anche questo nutrizionista E' uno di voi ragazzi E' uno dei miei iscritti Della figata Questi canali youtube E' che interagisci veramente con le persone E crei dei legami Che magari non sarebbero mai potuti esistere E' una figata Per lasciarvi un po' di suspense Prima devo tagliare un po' d'erba Comunque ragazzi vi svelo un segreto Per fare i pianetti Vedete che qua l'ho grattato di brutto Invece che usare il decedrito Se lo uso un po' inclinato Un po' storto Potete arrivare per niente fino alla terra E come al solito La mia GoPro si riempie l'erba Faccio sempre lo stesso errore Quando taglio l'erba Sempre Ragazzi Non tagliate l'erba Quello è il segreto Per non sporcare la GoPro E questo è il risultato Guardate qui Che pulizia Lo so già ragazzi Che stavate scrivendo Nei commenti Usa il diserbante Usa il diserbante Il diserbante L'erba del pack Non funziona Si lo metti giù Piove due volte Ricresciuto quella prima Poi se ci passi tante volte In realtà non cresce Invece come l'enera grossa Che non la usiamo tanto spesso Ci crescerebbe Ma alla fine in un attimo E' perfetta Lezione a caldo della bici nuova Perché non l'ho ancora fatta vedere nel video Oh come E' lì Com'è Bella Ma un po' di più di bello Qualcosa di discrittivo Sublime Ok Tino com'è la bici È tuning Toon Bella Raga Sta arrivando l'uragano ovviamente Tra l'altro dalla clip che avete visto Poco fa E' passata un'altra giornata Perché questo video Ormai lo facciamo a giorni Ho detto Ieri ho tagliato l'erba Oggi Giro Provo la bici Buonanotte ragazzi Guardate cosa sta arrivando Appena arrivati Vi ho scoperto un attimo Sta arrivando l'uragano Vabbè vediamo Vediamo Cosa se riusciamo a combinare Però fortunatamente ragazzi Ieri Sono anche andato A far già delle riprese Per presentarvi la bici Quindi adesso vi lascio A le riprese che ho fatto ieri Che sono fighissime E tra l'altro Intanto che cercavo lo spot Perfetto per fare le riprese Mi si è illuminato davanti Questo personaggio mistico Son venuto a fare due foto Alla bici nuova Guardate Che ho beccato Oh fate bravi piteci Mi raccomando Questo è un bravo ragazzi E' uno che fa dei salti da paura Lo dovete seguire Occhio ai tombini a livello Occhio a tutti Allora Avete visto la bici? Secondo te riuscirai a parlare Il giveaway prima del temporale o no? Adesso basta Facciamo il giveaway Tutta la verità sul giveaway ragazzi Allora mostriamo Cosa offre il giveaway Perché prima di dire la modalità Di come partecipare al giveaway Vi mostro tutti i prodotti Abbiamo Tutta componentistica Un bellissimo Un bellissimo manubrio OSI Pedali chromag Manopoli Corona Un set di cose complete Per rifarsi la bici Abbiamo poi sempre Rattiva la bici Copertone 27 e mezzo Magic Mary Per la bici enduro D.H. E camera d'aria Passiamo Pezzo fortissimo Protezione ragazzi Ginocchiere Di bluegrass E anche Il golden ice Che però Ok questo qui è sporco Perché è il mio Perché è quello che Per il giveaway Non mi è ancora arrivato Lo sto aspettando La spedizione è un po' a ritardo Però per quando poi Annuncerò il vincitore Sarà di sicuro arrivato Dall'altro Dall'altro comunque Cosa che tengo a sottolineare Tutti questi prodotti Che state vedendo Ve li lascio anche in descrizione Perché Se non li vincete Li potete comprare Sapete cosa dovete comprare Non che potete comprare Sapete cosa dovete comprare Ottimo ragazzi Gagnificati il cappellino Fantastico Poi Ma a segno circolare Da un milione di euro No scherzo Adesivi però ricercatissimi Di tutti i colori Poi Bellissima maglia TK Di King Apriamola giusto perché Così la mostriamo Tac Retro E fronte Northwave Per girare in DH Ok E poi ragazzi Questo In realtà ho fatto proprio Un unboxing A parte per questa cosa Quando mi è arrivato Ragazzi Cioè neanche Per me Ho queste cose Contenuto di questa cassetta Un set completo Di tutti i tipi di chiavi Che possono servire Per smontare una bici Adesso vi faccio vedere Cosa uso io Per smontare la bici Io ho Questi attrezzi Qua dentro Ho le mie quattro Cavoli di attrezzini Dentro sta sacchetta Guardate cosa do voi Però Spieghiamo Come funziona Il giveaway Abbiamo provato A sforzarci A pensare A un modo Che fosse meritocratico Nel senso che non fosse Semplicemente La pura casualità E quindi Solo se scrivi un commento Poi con il programma Che sorteggia il commento Lui lo sceglieva E quindi Perché non ci sembrava giusto Nei vostri confronti Esatto Quindi cosa ho pensato Ho detto Una cosa caratteristica Del mio canale È la sigla Tipo Tutte queste Sigla 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 E appunto Voi me ne mandate tantissime E come sapete Io dico sempre Non riesco a mettere Tutte le sigle Nei miei video Io cerco di metterle Più originali Quale più innovative Ecco Quindi ho detto Ma colleghiamolo A questo aspetto Della sigla Devo essere sincero C'è da dire Che apprezzo un sacco Tutte le sigle Mi mandate Ma Non ne ho viste Così tante innovative Per adesso Così super particolare Qualcosa che mi stupisce Proprio qualcosa di particolare Ecco Sarà così il giveaway Non dovete far la sigla Non dovete far la sigla Dovete commentare Sotto questo video La vostra idea Perfetta di sigla Io sceglierò L'idea migliore E poi Però Quando scelgo Quel commento Che è ipoteticamente Il commento vincitore Questo commento Di questa persona Dovrà essere realizzato Da questa persona Per effettivamente Vincere tutti questi prodotti Che avete visto Per adesso Dovete solo Commentare Con l'idea Di sigla Che preferite Iniziando a piovere E stanno venendo giù Gocce grosse come Sassi Guardate ragazzi Non abbiamo cambiato giornata Il temporale È passato Abbiamo già riscoperto tutto Stanno già iniziando a girare Quindi forse Riesco a provare La bici nuova ragazzi Mi sono dimenticato Di dirvi Il termine del giveaway Avrete tempo fino Al 6 di luglio Per scrivere il commento Io poi nel video Che uscirà Il 6 di luglio Annuncerò il commento Che mi è piaciuto di più E quindi il vincitore Possibile del giveaway Che però Poi avrà una settimana Di tempo Per inviarmi L'effettivo video Quindi mi raccomando Iniziate a pensare Cervellatevi Scrivete il commento E soprattutto Pensate come realizzarlo È la cosa fondamentale Non dovete Per forza andare in bici Potete fare Il video di sigla Nel modo che volete Totalmente libero Basta che siete creativi Ho provato la bici Ho fatto un paio di giri Fantastica Come al solito Però vabbè Il setup non è che È cambiato molto Dalle altre volte Comunque dopo Vi faccio un riepilogo Di tutti i pezzi Fa un mini bike check Volevo far provare La mia bici Agli altri ragazzi Agli altri Chi è che la vuol provare Tu la vuoi provare Hai la faccia di uno Che la vuol provare Sarà sicuramente Molto più rigida E la tua bici Guardalo lì Come pompa A caldo Molto più rigida Il setup che tengo io Di solito è Per i trick Deve essere proprio Particolarmente dura La bici Rigida Perché più è reattiva Più è facile fare i trick In realtà Hai detto il voleto? Ma qua Guarda come stai bene Alvi Sembra il tuo futuro telaio Alvi Performante Oh Giannino Giannino Però è bella Guarda di fianco Come risalta ragazzi Oh damn Avete apprezzato Il primo panettone Di una rigidezza Spaventosa Davanti è super leggera Un piccolo appunto Solo Per la performance Alboretica Ma non è un po' più alto Il pazzo Che non si merita Assolutamente Niente Ragazzi È vero Non si merita neanche un giro Sulla mia bici Però Come rompe le balle Adesso se tu vuoi provare La mia bici Devi fare bar spin Su tutti i panettoni Albi saluta gli stinchi Del pazzo Anche la caviglia rotta Mamma mi guarda le cavigline Ragazzi Mettetevi le protezioni Quando girate Alla prima Senza provare niente Oh shit Vai Continualo Oh L'ha preso L'ha preso Non ce la fa Questo non ce la fa Raga non ce la fa No non ci credo Non ci credo Dove l'ha fatto E qua Oh Ma dove l'hai messo Pazzo Ma era già Atterrato Sublime Concordo con quello Che hai detto prima Sublime In questo video in realtà Io non è che voglio mettere Troppo riding Perché ci sono Una marea di cose In questo video Giusto per fargli vedere Un mio giro Filmami solo Un giro Che pareti Va bene Lo vedete Un giro 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 attenzione ho riscontato un problema non avevo stretto la leva infatti mi è andata giù di brutto forse da stringere ok raga concludiamo questo video vi faccio rapidamente un bike check come vi ho detto appunto non è cambiata granché dalle altre volte telaio sempre un rose bruce taglia m ovviamente è personalizzato il colore poi abbiamo ruote sempre industriale che come avete visto le ho fatte con i mozzi di colori diverse da posteriore anteriore proprio per farle mecciare con il telaio abbiamo tutta la componentistica sempre croma quindi sella tubo sella pedali tutta la guida da m che tra l'altro appunto lo stem il nuovissimo ranger gr1 che come vedete è particolare perché ha già l'impostazione per mettere il rotor manubrio appunto questa volta ho deciso di cambiare mettere un manubrio in carbonio è il chroma katlas cos'altro davanti ho sempre una forcella una pipe dj sempre gonfia 220 psi vabbè le gomme abbiamo le schualbe rocke tron da 2 e 10 di larghezza se volete vedere magari più nel dettaglio come avevo montato gli altri anni i vari pezzi eccetera ci sono sempre sul mio canale i video vecchi degli anni scorsi dove alla fine il setup era più o meno lo stesso quindi vi consiglio comunque di guardarli se non li avete ancora visti direi che possiamo concludere questo video finalmente vi ricordo che da questo momento parte il giveaway ricordate di commentare con l'idea più innovativa più stravagante che avete per la sigla nella scorsa settimana abbiamo fatto una cosa come più di 3.000 iscritti ma anche 4.000 adesso di preciso non lo so ma incredibile grazie mille per il supporto continuate a supportarmi iscrivendovi e commentando partecipando a questo super giveaway e noi ci vediamo a un prossimo video bella ciao 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 ciao